Il primo giorno di caccia da conduttrice di cani? Sì. Non sempre la braccata al cinghiale è un'attività esclusivamente maschile. Non è sempre facile per una ragazza essere, tra virgolette, accettata in squadra. Conosciamo un gruppo di conduttrici di mute che con tenacia e passione si confronta con questo difficile mondo. Ma spari così veloce? Eh. Le signore della macchia, dal 3 agosto ogni venerdì alle 21 in esclusiva su caccia. Canale 235. Grazie a tutti.